carissimi video lettori del mio blog buongiorno a tutti siamo sempre in terra di sua maestà gallo nero siamo al sud del territorio di sua maestà gallo nero dove finisce praticamente il territorio di sua maestà siamo nel comune di castelnuovo berardenga e oggi andiamo a volare su una pieve antichissima siamo nell'anno domini 650 andremo a volare sulla pieve di santa maria pagina ciao a 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